bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo brevissimo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio dirvi dov'è la posizione esatta della stella segreta della settimana numero 3 ragazzi è molto semplice basta solo guardare la schermata di caricamento quella che ci verrà data al completamento di tutte le sfide e se andiamo a zoomare proprio lì ragazzi ecco la nascosta nell'immagine in semitrasparenza insomma ragazzi la stella segreta si trova nelle nelle rampe ghiacciate e più precisamente come ci indicava ragazzi l'immagine nel bunker quello più vicino a noi quello su cui sto atterrando ragazzi quindi molto tranquillamente vi ricordo di completare tutte le sfide ovviamente per poterla ottenere saranno 10 stelline del pass battaglia quindi un livello extra per voi e ragazzi la stella si troverà esattamente qua sopra beh ragazzi io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo in live ciao